Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è il tanto atteso video da tutti voi Per sbloccare le vendite giornaliere ragazzi Ebbene si, in questo modo noi potremmo sbloccare il blocco giornaliero Quando andiamo allo Santos Custom ci dice quel tanto simpatico messaggino Che per oggi non possiamo vendere più veicoli Con questo metodo possiamo aggirare questo blocco Adesso io ci ho messo un pochino per arrivare al blocco Ho dovuto fare tipo 30 milioni per arrivare al blocco Comunque ci sono arrivato E sono riuscito ad avere il blocco giornaliero ragazzi Vi faccio vedere, vado per vendere l'auto E non me la fa vendere Mi dice che comunque non può essere venduto Come avete letto Quindi che fare ragazzi Allora, per prima cosa Usciamo dallo Santos Custom Quando comunque avete il blocco L'unica cosa che dovete fare è uscire dallo Santos Custom E adesso andiamo a vedere che cosa dovete fare ragazzi Allora, senza scendere per niente dall'auto con cui siete Andate in Missioni Start online, create da Rockstar, ragazzi e mazzi E andate in Missioni Quindi andiamo in Missioni Create da Rockstar Andiamo in Missioni E tiriamo la freccetta verso su ragazzi E andiamo a fare Recupero Crediti Questa missione qui dobbiamo fare ragazzi Entriamo in questa missione Per chi non l'avesse Non so se funziona anche con altre missioni Però per chi non l'avesse Sbloccatela Lasciate tutto com'è E avviate la missione Abbastanza semplice Fino a qui ci siamo Avviate la missione da soli Una volta che siete nella missione Portate a termine la missione Io adesso manderò tutto in velocità Perché insomma due palle Già dura parecchio il video La missione è abbastanza facile Ve la farà fare con l'auto In cui siete entrati allo Santo Scasson Ovviamente Quindi andrete a completare questa missione Come dicevo ragazzi è abbastanza semplice questa missione Non è nulla di difficile Quindi si fa presto a farla E poi fatto tutto questo procedimento Che vi andrò ad elencare Potrete vendere tutte le auto che volete Una dietro l'altra Dopo che avete fatto sto procedimento Il video ragazzi non a tagli E' solamente mandato in velocità Ma niente di più In maniera tale che Proprio siate rende conto Del glitch e de come va Ho finito la missione ragazzi Perfetto Allora adesso mi manderà nella schermata di votazione L'unica cosa che dovete fare E' mettere solamente mi piace E aspettare che scada il tempo Non dovete premere continuo Assolutamente ragazzi Perché altrimenti Rifotterete tutto quanto il glitch Quando sarete in questa schermata Andrete a prendere una missione a caso Io prendo un lavoro da titano Però potete prendere una missione Però potete prendere ragazzi Non prendete paracadutismo o altre cazzate Prendete una missione Una volta che avete preso questa missione L'avviate da soli Senza nessun problema ragazzi Avviate la missione E quando siete in missione Vi dovete suicidare Adesso vi farò vedere O meglio Io mi suicido per fare prima Però potete anche finirla la missione Non c'è problema Ma io mi vado a suicidare Perché come ho già detto Già dura dieci minuti così Il video durerebbe una vita E non mi va De farlo dura tanto Quindi Avevo due vite Mi vado a suicidare Per entrambe le volte Per tutte e due le volte Insomma In maniera tale Da terminare la missione Quindi ragazzi Abbiamo fatto fallire la missione E' abbastanza semplice Non c'è nulla Di difficile da fare Insomma Una volta fatta fallire la missione Attendiamo sempre il Di diamo continuo Insomma E andiamo direttamente in free mode Ragazzi Non dobbiamo votare altro Andiamo direttamente in free mode E in free mode ci ritroveremo Con l'auto In cui avevamo il blocco Ragazzi Fate attenzione Questo metodo funziona solamente Per chi ha targhe personalizzate Non so se funziona Anche per chi ha Targhe alfanumeriche Nel senso Le targhe imposte dal gioco Quelle che hanno i numerini Per capirci Però per le targhe personalizzate Funziona benissimo Per qualunque domanda Chiedete sotto al video Non mi fate domande stupide Perché insomma Mi sembra di starlo a spiegare Abbastanza bene Il glitch De avervelo spiegato Abbastanza bene Quindi passiamo Al resto del glitch Che è l'ultimo passo E' quello di andare A vendere le app Quindi come vi ricordate Senza tagli E senza inganni Ragazzi Ovviamente nel video Avevo il blocco giornaliero Quindi adesso Andiamo a recuperare La mia auto Che me l'ha messa Tipo in culo al mondo Me l'ha messa E andiamo allo Santo Scalzo Fatemi Vedendo sta Lo Santo Scalzo Sono cinque anni Che gioca GTA E so sei Che non mi ricordo Tante volte Le strade Allora Quindi niente Andiamo allo Santo Scalzo E andiamo a verificare Se ci ha tolto Il blocco giornaliero In caso In caso non dovesse Togliervi il blocco giornaliero Ripetete il procedimento E' abbastanza semplice Ci vuole un pochino Però Penso che il gioco Vale la candela Penso che Potete spendere Cinque minuti Del vostro tempo Per poter fare Sto glitch Non credo che sia Tanto difficoltoso Insomma Anche perché poi Ve renderà dei soldi Insomma Non è che Pizzate fichi Qui Ragazzi Stiamo a parlare dei soldi Dei novecentocinquantamila Volta Del blocco giornaliero Che verrà annullato Insomma Quindi Andiamo nello Santos Custom Con l'auto Con cui siamo partiti All'inizio E come per magia Ragazzi Il blocco giornaliero Si sarà annullato Come vedete Ci lascerà vendere l'auto Adesso ve lo farò vedere E' abbastanza Diciamo E' abbastanza semplice Come cosa Un attimino che Non so che cazzo è successo Ma Ok Allora Andiamo per vendere l'auto E come vedete Me la lascia vendere E' la stessa auto Di prima Ragazzi Io adesso Per farvi vedere Ne andrò a vendere Un'altra paio Il video andrà in velocità Vi lascio Al resto del video Vi lascio Alla musica Spero che il video Vi sia piaciuto Fate Girare questo video A qualche vostro amico Fate girare Il mio canale Ragazzi In maniera tale Che io riesco a crescere Perché comunque Crescendo Mi stimolate di più A fare video E tutto il resto Lasciate un bel like Fate tante belle visualizzazioni E condividete il video Detto questo ragazzi Un saluto a tutti E al prossimo video Rimanete fino alla fine del video Per vedere Le auto Che vendo una dopo l'altra Ciao a tutti E al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti